bentornati sul mio canale allora oggi voglio fare un piccolo piccolo video per rilassarvi un poco vorrei diciamo farlo in un soft spoken molto molto leggero e vorrei se è possibile fare anche dei mouth sound adesso vediamo voglio fare giusto 20 minuti 15-20 minuti di video non troppo lungo dovete sapere che io voglio farvi tanti tanti video però a volte manca proprio il tempo e poi sono sincera non è anche una questione di tempo perché io non ho neanche la fibra cioè qua da noi ancora non hanno messo la fibra e quindi caricare il video ogni volta io ci impiego ore e ore invece se avessi la fibra sarebbe tutto più semplice perché i video si metterebbero subito potrei farne tanti tanti invece così è limitante e quindi oggi voglio fare dei video un po' di carezzine c'è una zanzara che gira per la camera allora forse sentite in sottofondo l'orologio spero che non mi dia tanto fastidio oggi per me è giovedì e voi penso che vedrete questo video domani che è venerdì credo di pubblicarvelo per domani questo video e spero che vi rilassiate tanto tanto allora come vi stavo dicendo quindi oggi per me è giovedì allora ragazzi questa settimana è stata una settimana molto impegnativa molto impegnativa per me ho fatto tante cose a lavoro nel senso che a lavoro ultimamente è un po' impegnativo anche perché essendo io segretaria tutti quanti mi chiedete spesso meri che lavoro fai? meri che lavoro fai? meri che lavoro fai? meri che lavoro fai? che lavoro svolgi? comunque ci sono un sacco di curiosità riguardanti il mio lavoro ma io svolgo un lavoro semplicissimo cioè faccio la segretaria solo che sono solo io a farla e quindi devo gestirmi in tante cose e ho tante cose da fare e niente quindi questo è quanto e non ho altri cioè aiuti sono solo io che faccio 3000 cose 500 e niente quindi questo è quanto e poi ho dovuto girare anche dei video per youtube delle cose per instagram e quindi sono un po' impegnata in questi giorni e poi sabato cioè non vedo l'ora che arriva il weekend però questo weekend mi sveglio presto faccio un po' di stretching un po' di meditazione e poi pulisco tutta casa e poi scendo a fare delle commissioni questo weekend questo è quello che voglio fare e poi ovviamente voglio rilassarmi e quant'altro perché tutti quanti ci meritiamo un po' di sano relax ragazzi tutti tutti quanti quindi dobbiamo sempre dedicarci a noi anche in piccoli momenti rilassarci tanto tanto allora innanzitutto mi stavo mi stavo dimenticando di una cosa non so se vedete ma indosso questa questi orecchini che sono veramente belli e sono abbinati con questa collanina non so se vedete questa collana io l'ho indossata anche ad una comunione che se non sbaglio sono andata in questa comunione a ottobre trovate le foto degli outfit indossavo anche questo completo su instagram e comunque questo ora diventano una collanina dorata così bianca io amo queste e ed è abbinata con questi orecchini qua e sono di Daniel Wellington e stupendi ragazzi veramente belli e quando li metto li metto sempre in completo perché mi piace tanto ce lo scherco lì se siete interessati vi posso fare anche in questi giorni appena posso vi faccio un po' uno show intel sistemazione gioielli così vedete tutto quanto con calma se siete interessati con l'occasione del black friday c'è il 50% su tutto il sito di Daniel Wellington quindi è veramente consistente come sconto e c'è fino al 50% per il black friday e avete comunque anche il mio c'è anche il mio in infobox come sempre nel caso in cui siete interessati e vi voglio anche far vedere una cosa che ho preso per Amy per mio marito diciamo che questi sono unisex quindi vanno bene anche sia per donna che per uomo allora questa è la scatolina da Daniel Wettling vedete questo mio marito che sarebbe un orologio fatto in questa maniera però sta bene anche questo è unisex quindi anche per donna posso metterlo anch'io solo che il quadrante è un po' grande a me piace col quadrante più piccino e comunque questo qua vedete questo qui vabbè si deve sistemare l'orario perché mio marito ancora non l'ha indossato però sta bene per dire anche con questo completo qua dorato secondo me così vestiti su colori un po' neutri vabbè e il cinturino è in pelle però c'è di tanti colori trovate proprio sul sito c'è ci sono un sacco di salti quindi se siete interessati sia per il black friday però anche proprio per quanto riguarda i regali di natale quindi approfittare del black friday per fare i regali di natale io faccio così sinceramente a volte faccio così anche se devo essere sincera non devo fare poi così tanti regali a tante persone perché però le offerte però sono valide solo per 48 ore comunque io vi lascio tutto giù se siete interessati a dare un'occhiata un'occhiata a un'occhiata a un'occhiata a un'occhiata come in un'occhiata a un'occhiata a un'occhiata mi ha detto che mi piace questo tricker del tapping sulla fotocamera e sono sincera mi piace molto anche a me, non pensavo mi scesse quasi tanto, mi piace molto e se ne esiste in Audible, non li faccio quasi mai in Audible, tanti di voi se me le richiedete molto semplici molto semplici molto semplici speracadissimi molto d'aiuto senti i baci per te 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 cosa avete comprato con le confratti io non so cosa non ti penso più di quel confratti e ti sogno un poco sperando questo è interessante che farete sogni belli sogni belli mi raccomando fate pesognetti ti copro gli occhi ti copro gli occhi e ti sussurro piano piano fa buonanotte mi raccomando dormi dormi rilassati fai sogni belli pensa a tante cose belle tante cose positive scaccia tutti i tuoi pensieri negativi che scaccia tutte le tue cose che non vanno bene nella tua vita e che ti fanno stare male che pensa solo le cose positive di quello che accade nei tuoi giorni baci per te tanti baci per te un bacio per te bacio per te bici per bene una bacia per te un bacio per te un bacio per lo bici per tu un bacio bici per te un bacio per te che si spero che tutti noi rilassare con me solo che ho tante cose da dirvi da farvi vedere e quindi per questo motivo spero che vi piaccia lo stesso e che vi sia piaciuta lo stesso questa breve sessione di carezzine e coccolina per voi un grande bacio tra l'altro devo rifare lo smalto cioè devo rifare le unghie e ho messo questo smalto lilla che non mi piace quindi sabato andrò a mettere uno smalto un po' più autonale ci vediamo alla prossima I'll miss you e buon luy ciao ciao ciao